Ancora un incidente mortale a Salerno in via Torrione all'altezza del sottopasso situato di fronte al Grandotella. Perdere la vita questa notte intorno all'1.30 il 32enne Domenico Santucci, originario di Nocera Superiore, era alla guida della sua moto quando avrebbe inavvertitamente urtato contro il cordolo dello sparti traffico posizionato al centro della carreggiata. Il giovane ha così perso il controllo del mezzo a due ruote finendo con violenza sul marciapiede. Sul posto sono intervenuti i sanitari del South Misericordia che hanno trasportato il 32enne in codice rosso all'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno dove purtroppo è arrivato già senza vita. Sul caso indaga la polizia che sta cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente. Per il momento si esclude il coinvolgimento di altri mezzi o persone. Proprio in queste ore il comune di Salerno è pronto a portare in giunta un piano che prevede il limite massimo di velocità a 30 chilometri orari in alcune zone cittadine tra cui il lungomare proprio per ridurre gli incidenti che purtroppo si ripetono in questi tratti di strada previsto anche il potenziamento dei semafori.